Cari amici, a Piazza è partito il cambiamento e il cambiamento oggi è rappresentato solamente dal Movimento 5 Stelle. Vi spiego il motivo perché dovete votare Movimento 5 Stelle. Se oggi a Piazza Armedina Agostino Sella diventa sindaco, in Consiglio Comunale ci saranno 12 persone che sono totalmente nuove, che non escono da questo Consiglio Comunale, che sì, non sono assolutamente dei novellini così come ci accusano, ci accusano di essere novellini, ebbene non saranno novellini, 12 persone che manderanno a casa tutti quelli che ci sono stati finora. Perché noi non faremo accordi con nessuno, avremo una sola lista e se vinciamo 12 persone di queste vanno in Consiglio Comunale. Se vinciamo io diventerò sindaco di Piazza Armedina, dicono anche, ci accusano il Movimento 5 Stelle che sono novellini, non è vero. Io ho fatto il consigliere comunale 20 anni fa, all'epoca di Sottosanti, dal 1993 al 1997, è stata una straordinaria esperienza che mi ha permesso di imparare tante cose, grazie a quell'esperienza sono anche diventato imprenditore, ho tutta una serie di cose, addirittura mi accusano di essere uno che ha delle imprese o fa delle cose, ma oggi per riprendere il Comune di Piazza Armedina ci vuole proprio un imprenditore, ci vuole uno che si alza la mattina e pensa a come fare soldi per il Comune, perché questo è un Comune che ha tantissime risorse, ma dobbiamo completamente cambiare il modo di pensare. L'ente pubblico oggi deve essere un'impresa, per cui questo noi vogliamo fare, portare al governo del Paese persone nuove che non hanno nulla a che vedere col passato, che rinunciano ai gettoni di presenza, perché la politica non si fa per i soldi ma si fa per il servizio. Noi questo lo diremo prima di diventare amministratori di questa città e con questa città faremo tante nuove cose insieme a voi, perché non si governa da soli, non possiamo cambiare e fare la rivoluzione da soli, la possiamo fare solo insieme ai cittadini. Per questo stiamo iniziando, abbiamo già cominciato, questa straordinaria esperienza del programma partecipato. Venite all'Assemblea del Movimento 5 Stelle, anche se non ci votate, però insieme possiamo fare un programma che serva a questa città, perché i programmi non si fanno da dietro il tavolino pigiando i tasti del computer, si fanno tutti insieme, perché ogni cittadino può avere un'idea straordinaria sul traffico, ogni cittadino può avere un'idea straordinaria su come tenere pulita questa città. Questa è una cosa fondamentale, la nostra città deve essere pulita, perché è la nostra casa, dobbiamo partire da queste piccole cose. Dalla prossima settimana ci vedremo ogni mattina con delle pillole sul programma, in modo che voi potete anche intervenire sul blog e anche sul meetup. Il blog è il mio, è un blog, si chiama Agostino Sella, non è un attestato a giornalistica, quindi sarà il mio strumento per fare comunicazione insieme a voi, così come abbiamo fatto in questi anni, cercheremo anche durante la campagna elettorale di valorizzare questo strumento e quando diventerò sindaco, il blog diventerà il blog del sindaco, quindi anche voi potete passare il tempo a commentare le cose che facciamo e ogni mattina saprete quello che farà l'amministrazione comunale, perché in 5 minuti noi vi diremo tutto quello che faremo durante la mattinata, i cittadini devono entrare dentro il Comune, l'unico modo per entrare nel Comune è votare il Movimento 5 Stelle, ci vediamo la prossima volta.